La cancellazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali è stato uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Non appena al governo, diceva il Movimento di Di Maio, abrogheremo la legge 107 o perlomeno gli istituti più contestati dal mondo della scuola. E così, nell'estate del 2018, la senatrice Bianca Granato, presentò una proposta di legge proprio per cancellare la chiamata diretta, o meglio, la chiamata per competenze, come più precisamente viene definita dalla legge 107. Un disegno di legge molto simile venne presentato anche dal senatore della Lega, Mario Pittoni. Di fatto, nel mese di ottobre, il disegno di legge iniziò il suo iter al Senato, dove venne approvato però solamente il 18 luglio 2019, con il voto contrario del PD e con l'astensione di Leu. Il provvedimento venne subito trasmesso alla Camera, dove però l'esame è iniziato solamente il 4 febbraio scorso e subito sono emerse alcune difficoltà. D'altronde, dal luglio scorso, molta acqua è passata sotto i ponti. I deputati del PD e quelli di Italia Viva hanno già detto di non riconoscersi in un provvedimento che è stato approvato al Senato da una maggioranza diversa da quella attuale. I problemi che stanno emergendo hanno già fatto irritare e non poco la senatrice pentastellata Bianca Granato, che sottolinea come la chiamata diretta e gli ambiti territoriali siano misure incostituzionali, incompatibili con il dettato dell'articolo 33 della Carta. Anzi, aggiunge Granato, si tratta di misure che hanno precarizzato una intera categoria di lavoratori che già subiscono un trattamento salariale indecoroso. Pensavo, ci ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi, che dopo la parentesi fedeli, il PD sarebbe entrato nell'ordine di idee di fare un po' di passi indietro. D'altra parte, è un po' difficile pensare che solo in nome dell'alleanza di governo il PD e soprattutto Italia Viva possano dare via libera ad un disegno di legge che cancella uno dei capisaldi della legge 107. Per la verità, se si guardano i numeri, una possibilità di approvare la legge anche alla Camera ci sarebbe. Basterebbe che la Lega votasse a favore insieme al Movimento 5 Stelle. A quel punto il voto contrario del PD e di Italia Viva non sarebbe determinante, ma è del tutto evidente che una soluzione del genere potrebbe mettere a rischio la stessa tenuta del governo. Bene, di questo argomento ovviamente noi continueremo ad occuparci, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, continuate a leggerci e soprattutto a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni e i vostri commenti. Grazie a tutti.